La candidatura a presidente della regione per il centrodestra toscano continua a essere un rebus. I nomi finora in campo sono quelli di Claudio Borghi per la Lega, Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia e Giovanni Lamioni per Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Ma proprio su quest'ultimo l'intesa che sembrava cosa fatta è rimasta per adesso teoria, al punto che Nuovo Centrodestra e Udc hanno lanciato agli azzurri una sorta di ultimatum. Noi vogliamo presentarci alle elezioni e dire la nostra. Se è possibile farlo insieme ad altri che vogliono costruire l'alternativa credibile, ben ben, altrimenti andremo da soli. Forza Italia infatti dovrà scegliere se allearsi col partito di Alfano o con la Lega Nord di Salvini che ieri ha accompagnato Borghi in un nuovo tour elettorale tra Prato e Firenze aprendo le braccia a chi vorrà sostenere il loro programma. All'inizio ci saranno delle specie di premiari del centrodestra e poi dopo chi vincerà andrà a sfidare Rossi e mi auguro che l'accordo se ci sarà con Forza Italia ma anche con altre forze sarà per far sì che chi vinca poi dopo al secondo turno finalmente mandi a casa Rossi. Chi sta convergendo sul candidato leghista oltre a Fratelli d'Italia è invece la componente fittiana di Forza Italia rappresentata dal deputato Maurizio Bianconi e dal consigliere regionale Paolo Ammirati che potrebbero dare vita a una lista civica in appoggio proprio a Borghi. Borghi è persona rispettabilissima, competente, preparato, quindi il giudizio sulla persona e sul politico è senza dubbio positivo. A me piacciono tutte le persone che sono fortemente all'opposizione di questa amministrazione toscana. Su tutto però servirà l'ok da Roma e solo dopo gli incontri incrociati tra i leader nazionali Berlusconi, Alfano, Salvini e Meloni saranno sciolte le riserve anche in Toscana. Eccolo qui al blocco 5 del parterre il nuovo Infopoint allestito dal Comune di Firenze e dalla SAS per permettere ai cittadini di monitorare l'avanzamento dei cantieri della tramvia. In questo ufficio di Piazza della Libertà dove lavoreranno oltre agli operatori comunali e anche i consiglieri del quartiere 5, i cittadini potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e il martedì anche il pomeriggio. Penso che sia molto importante perché può aiutare i cittadini ad attrezzarsi studiando i percorsi alternativi e quindi organizzandosi meglio con le proprie auto. Tutto questo di pari passo con l'avanzamento dei cantieri delle due linee. Su questo schermo sarà possibile vedere ad esempio cosa accadrà dall'8 aprile quando verrà aperto un nuovo cantiere della linea 3 tra Piazza Muratori e Piazza Leopoldo mentre a partire da martedì prossimo la Alstom comincerà i lavori per la posa dei binari in via di Novoli. Entro la fine di aprire il tratto di fronte alla sede della regione toscana 150 metri in tutto dovrebbe essere completato. Noi prevediamo di finire quel tratto di cantiere entro l'estate. Entro agosto dovrebbe essere terminato, di conseguenza possiamo ridurre l'ingombro della canterizzazione e restituire una corsia di marcia verso l'ingresso in città. Infine sempre sul fronte della comunicazione il comune sta pensando di potenziare il servizio Alert System riservato finora all'emergenza a Luvioni chiamando direttamente a casa i fiorentini per avvertirli delle modifiche più significative alla viabilità nella loro zona. Come mai stasera qui a Firenze? Siamo qui per preparare la manifestazione di sabato del 28 a Roma, è una manifestazione importante, necessaria perché i provvedimenti presi dal governo sono sbagliati, non si può togliere i diritti, favorire i licenziamenti, c'è bisogno di un cambiamento delle politiche economiche e noi siamo qui per dire che anche se hanno fatto delle leggi che sono sbagliate noi non ci fermiamo e vogliamo cambiarle, quelle leggi sbagliate e vogliamo aprire anche altre strade. Al centro c'è anche la riduzione dell'età pensionabile, per mandare gente a lavorare bisogna ridurre l'età, è folle che in Italia si stia andando verso i 70 anni di età pensionabile, bisogna portare drasticamente in basso quell'età, bisogna ripristinare le pensioni d'anzianità e anche sui giovani non è accettabile che ci sia un sistema contributivo che di fatto cancella quelle pensioni, poi c'è bisogno di far ripartire gli investimenti, quello che sta succedendo in queste ore, penso anche al caso Pirelli, rende evidente cosa sta succedendo in Italia.